benedetto del faccio per il mio canale adesso vi chiedo un quadro noio crash bandicoot 1 per proseguire questo disastro infernale che gli ultimi video sono stati uno scavro mi sono dovuto persino montare il tutto maremma tutta lì ultimamente non riesco a montare cioè non c'ho proprio voglia grazie a tutti 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 grazie a tutti